immagina una macchina che si adatti ad ogni necessità facile da usare che vi permette di decorare una vastità di tessuti dai più grezzi ai più pregiati immagina di poter programmare ogni funzione con pochi semplici tasti e di verificare il tutto da un comodo ed elegante display LCD in pochi semplici passi riuscirete a realizzare magnifici lavori di sartoria bene ora potete smettere di immaginare perché tutto questo c'è già e la singer confidence 74 70 venite a scoprirla nel nostro negozio o sul nostro sito ad un prezzo speciale e e e e e e e